cari amici e cari amiche vi do il benvenuto in questo nuovo video oggi un po di novità un po di novità che spero vi piacciano in primo luogo in questo video non presento un tutorial di giochi bensì un tutorial per come eseguire un massaggio contro il dolore alla zona cervicale questa è la prima novità la seconda novità è che non sono in compagnia dei miei genitori ma sono con mio fratello che è fisioterapista di professione ed in questo video infatti la spiegazione su come eseguire il massaggio la darà lui io sarò semplicemente la persona che lo riceve non è un video nonostante sia spiegato da un professionista non è un video che illustra un massaggio che va eseguito esclusivamente da fisioterapisti di professione ma è un massaggio che può eseguire chiunque seguendo comunque determinate istruzioni che comunque in questo video vengono date ora io vi invito ad iscrivervi sul canale a mettermi un bel like che se il video vi è piaciuto e adesso guardiamo tutti insieme questo tutorial per un massaggio alla zona cervicale dunque andiamo a vedere qualche breve manovra il massaggio cervicale è ideale per chi ha dolori da contratture o posture mantenute molto a lungo soprattutto a sedere e posture di lavoro per cui cominciamo con una semplice manovra di diciamo rilassamento dei trapezzi con le mani chiuse a pugno andiamo a eseguire dei piccoli cerchi con delle pressioni non forti quindi cominciamo molto molto leggeri a partire dalla base del collo andando verso l'esterno fin quasi alle spalle chiaramente quando si incontra la barriera ossea delle scapole non andiamo oltre lì ci fermiamo mi raccomando quando si fa questo tipo di massaggi chiedere sempre un feedback alla persona ovvero chiedere sempre se si gradisce una pressione un po più alta una pressione un po più bassa e soprattutto bisognerebbe sempre cercare di stare fuori dalla soglia del dolore quindi comunque massaggi blandi anche perché generalmente se qualcuno si vuol fare un massaggio generalmente lo fa per rilassarsi non per uscire ancora più contratto di prima giusto? giustissimo di solito si eseguono dai cinque alle dieci ripetizioni di questo tipo di manovra diciamo comunque a seconda di quello che si sente anche sotto le dita cioè se si sentono delle zone un pochino più contratte ad esempio lei in questa zona è un pochino più contratta il muscolo che è un pochino più duro si possono mettere anche le mani a taglio ed effettuare dei movimenti tipo questo sempre con delle pressioni non esagerate 15 20 secondi massimo 30 importante anche sentire magari un pochino i tessuti sotto la mano come come reagiscono insomma se si ammorbidiscono meno faccio un piccolo inciso più che altro per una questione di sicurezza delle persone se avete davanti una persona comunque che ha problematiche differenti da un semplice dolorino al collo come possono essere non so vertigini, giramenti di testa o cose del genere è sempre meglio evitare questo tipo di massaggio poi con le mani in questa posizione qua andiamo a diseguire dei piccoli cerchi a partire da dalla zona sottonucale quindi subito sotto la nuca che è questa zona qua l'attaccatura dei capelli piccoli cerchietti andiamo scendendo fino ad arrivare alla zona che abbiamo già massaggiato in precedenza anche qua 5-10 ripetizioni sulla zona del collo andiamoci molto delicati perché chiaramente è più sensibile rispetto alla zona dei trapezzi generalmente ok visto questa vi faccio vedere una variante del massaggio al trapezio il massaggio al trapezio si può fare anche prendendo a pinza il trapezio proprio nelle mani di solito si fa alternato per cui si va una pinzata con la destra e una con la sinistra e pian pianino anche qua andando verso l'esterno ovviamente verso l'esterno e poi si ritorna verso l'interno anche qui mediamente 5-10 ripetizioni di esterno e interno o in alternativa si può fare anche dallo stesso lato io uso ad esempio 6 vita 3 di una mano 3 dell'altra pinza ve lo faccio vedere un po' che si vede meglio quindi ci si concentra prima su un lato attenzione ovviamente ai capelli ogni tanto non è facilissimo ma ci si prova quindi si fanno manovrine di questo tipo e poi ovviamente dall'altro lato andiamo a vedere un attimino un'ultima manovra infrascapolare anche qua con la mano a pugno chiuso diciamo come prima sul trapezio anche qua andiamo a lavorare tutta questa zona tra le scapole una zona rettangolare diciamo si può fare o a una mano quindi un lato per volta o addirittura anche tutte e due per cui andiamo anche qua a eseguire dei piccoli cerchi con la pressione che più piace alla persona ovviamente senza esagerare adesso in questa zona qui grossi danni è difficile farne però sempre meglio andarci cauti soprattutto se non sia esperti dall'alto verso il basso anche qua solite 5-10 ripetizioni comunque considerate che un massaggio cervicale bene o male in 15-20 minuti si fa anche perché andare a tra virgolette spingere e frizionare nella zona cervicale molto a lungo rischia di produrre l'effetto opposto per cui andateci blandi e con cautela insomma per concludere una manovra di scollamento della pelle diciamo per concludere il video e il massaggio si chiama pinza roulette una manovra molto famosa insomma sostanzialmente si prende la pelle a pinza e facendo muovere le dita indice medio in questo modo si arriva dalla zona dorsale alla zona cervicale trazionando la pelle verso l'esterno diciamo che è un buon modo di concludere un massaggio anche questa qui è una manovra da fare comunque in modo blando senza tirare un'esagerazione e serve appunto a scollare i tessuti più superficiali da quelli più profondi in particolare i primi strati della pelle da quelli muscolari sottostanti come sempre io vi ringrazio per aver scelto di seguire il mio tutorial spero che lo abbiate trovato utile e interessante e noi ci vediamo nel prossimo video ciao